Torna la giornata nazionale della colletta alimentare, così anche quest'anno la cittadina nissena si mobilita grazie all'impegno dei numerosi volontari che accoglieranno le donazioni dei cittadini davanti i diversi punti vendita della città sabato 26 novembre. Anche questa volta infatti, oltre ai volontari del Banco Alimentare di Caltanissetta, verranno coinvolte parrocchie, associazioni del territorio e anche gli scout. Parliamo di circa 500 volontari che con le varie turnazioni saranno davanti a tutti i punti vendita proprio per la raccolta della giornata nazionale della colletta alimentare. I volontari saranno riconoscibili dalla loro pettorina arancione dove chiederanno alla cittadinanza di poter contribuire con un gesto alimentare che poi sarà destinato alle famiglie bisognose della nostra città e del nostro circondario. Tra i beni più richiesti la pasta ma soprattutto alimenti a lunga scadenza. I beni sono alimenti che abbiano innanzitutto lunga scadenza, nello specifico quest'anno si chiede molto pasta, olio, latte perché i prezzi sono saliti così tanto che c'è carenza. Non si raccogliono prodotti freschi perché non si ha la possibilità di poterli conservare qui al momento. Tutta la merce che viene raccolta durante la giornata nazionale del giorno 26 per quanto riguarda la nostra città verrà conservata in questo deposito messo a disposizione dalla parrocchia San Marco e già in mesi di dicembre sarà ridistribuita alle famiglie della città di circondare del nostro banco. Si tratta dunque di un deposito che viene utilizzato in maniera temporanea ma la speranza è quella di trovare una sede fissa per il Banco Alimentare Nisseno. Questo l'appello del responsabile di Caltanissetta Raimondo Messina di ritorno da Catania. Anche lui infatti era presente ieri mattina in occasione della visita dell'arcivescovo di Catania al magazzino del Banco Alimentare intitolato nella stessa giornata insieme agli uffici a due volontari del banco per onorare la loro memoria. È da anni che noi ci battiamo per avere un deposito qui a Caltanissetta però purtroppo senza risultati. Quindi approfittiamo della colletta alimentare per lanciare l'ennesimo tentativo di poter avere un deposito che possa servire per la zona di Caltanissetta e i paesi limitrofi. Per questo deposito avremo bisogno di un copagnolo di almeno 500 metri che sia accessibile con i tir e che ci sia tanto spazio attorno in modo che i tiri possono avere la possibilità di poter scaricare.